Azzerare l'IVA sui beni di prima necessità, a partire da pane, pasta, riso, latte, frutta e verdura. Un aiuto immediato e urgente per tutti i cittadini per combattere il caro vita e l'inflazione. Credo che tutti gli italiani vadano tutelati, a partire da chi ha più bisogno. Domenica 25 settembre, dalle 7 alle 23, vota Lega.